Il comune di Bruino è abituato a lavorare in rete, a collaborare con altri comuni, perché siamo un comune medio-piccolo e quindi ci serve collaborare con realtà più grandi e più strutturate. Poi credo che la collaborazione sia un valore. In questo campo questa esperienza è stata assolutamente positiva, proprio perché ci ha permesso di valorizzare esperienze più grandi, quelle della provincia e della città metropolitana e di aderire a un progetto molto importante che ha prodotto degli effetti significativi sul nostro territorio, perché interessa tre scuole, una palestra e il palazzo comunale con il rinnovamento delle caldaie e un efficientamento energetico molto importante.